Con Valeo è facile capire quando le spazzole sono da cambiare. Le spazzole tergi sono uno strumento fondamentale per la visibilità dei guidatori. Mentre controllate l'auto è importante verificarne lo stato. Sono quattro i difetti più comuni di tergitura che si possono individuare più facilmente. Le strisce, la velatura, gli strappi e il rumore, le zone non pulite. Le strisce appaiono sul parabrezza quando il refill è danneggiato o strappato. Le alte e le basse temperature, il ghiaccio o lo sporco, sono le cause principali. Rimedio, sostituire la spazzola. La velatura, la velatura si manifesta sul parabrezza quando il refill rimane piegato su un lato e non può tornare indietro. La causa principale è che la gomma si indurisce con l'invecchiamento e al variare delle temperature. Rimedio, sostituire la spazzola. Gli strappi e il rumore. Se le spazzole strappano e fanno rumore quando si lava il parabrezza, è perché la gomma si è indurita a causa dell'invecchiamento o degli sbalzi di temperatura. Il refill rimane piegato a causa della pressione del braccio della spazzola. A causa di un uso intensivo, il gioco tra il braccio e la spazzola può aumentare. Rimedio, sostituire la spazzola. Le zone non pulite. Se alcune zone del parabrezza non risultano pulite, è a causa del sollevamento della spazzola alle alte velocità. La distribuzione della pressione della spazzola è insufficiente perché il braccio non fa una pressione uniforme. Rimedio, controllare la pressione del braccio o sostituire la spazzola. Una buona tergitura è senza strisce, velature, strappi e rumore e zone non pulite. Per aumentare comfort e sicurezza, sostituisci le spazzole ogni anno.